Ciao a tutti ragazzi, sono Karen e dopo aver provato 20 multi su Roberto off live, off stream, off qualsiasi cosa e non essere ancora uscito Roberto ma essere uscito a tipo 8 copie di Tsubasa che me le ficco tutte nel culo a ripetizione piano piano sono arrivato al momento di esaurimento nervoso quindi dopo aver farmato tutto l'account in modi, laghi, maniere eccetera eccetera mi rimangono a disposizione 3 multi di cui 1 è con i ticket e 2 sono con le gemme faccio questo video perché così faccio questo video perché magari mi date un po' di fortuna che manca si è persa, cioè qualcuno l'ha presa e me l'ha portata via fortunatamente Mamma Kelab mi ha insegnato a soffrire quindi sono abituato a questo tipo di sofferenza impossibile cioè la sofferenza di pullare, pullare, pullare e non uscire diciamo che Mamma Kelab mi ha abituato proprio con i brasiliani cioè io ce l'ho proprio la passione nel pullare nel banner per i brasiliani verdi, tecnici e non uscire mai niente arriva un cheat e semi-cheat, non l'ultimo ma chi sa la storia sa la storia e quindi ho provato single pull, nose pull, turbante pull, culo pull hai mai messo il suo telefono un coppo culo testoline, membro pull, collana pull, lampada pull ho fatto pure quella lampada là dietro là ho fatto quella lampada sopra il telefono ma niente, non ci è perso, non ne vuole sapere cioè ci ho provato in tutte le maniere, i modi, i laghi volevo scrivere subito su youtube ragazzi ho fatto il lampada pull ma niente, ci ho provato in tutti i modi, in tutte le maniere, in tutti i laghi non ne... no, no hai detto no quindi per quest'ultima possibilità per queste ultime tre possibilità io mi affido a voi qua con il cuore in questo banner di merda mi affido a voi che la madonna ci accompagni e che questo percorso sia fruttuoso in amore del padre, del spirito, dello santo dello santo soprattutto amen vuota uno, uno roberto, roberto ma vaffanculo ma che cazzo ma sei uscito dieci anni fa sei più vecchio di mia nonna con la carrozzella moronna che cazzo vabbè se mi trovate che all'improvviso scrivo tipo ragazzi all'ultimo ho fatto una singola mi è uscito magicamente la realtà è che ho shoppato 10.000 euro riproviamo non ci atterriamo riproviamo non ci atterriamo altre due altre due altre due altre due vai let's go hop 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 cavallo vuota ma vaffanculo ma non ci vaffanculo ma com'è possibile ma neanche l'animazione che tu dici vabbè ma te lo dà cioè non mi dà niente oh nani che cos'era un altro Dio Dio io ti odio cavallo trotta ma come si fa come da spaccati spaccati Dio ti ho in tutte le versi ti odio ti odio ti odio sai che significa ti odio ti odio sono di merda pure questa no sei no come cazzo si fa come 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 va bene quindi per anche stavolta abbiamo finito questo fantastico video in cui ho preso un altro Tsubasa Zora sono contentissimo dei risultati potrei dire quasi essere fatto bello ringrazio tutti i miei sostenitori ringrazio il mio cognato dall'Afghanistan che mi sta per portare le bombe perché lo bombardo sto gioco di merda lo bombardo e buona giornata a tutti ciao ciao ciao